Vi avevamo promesso una puntata particolarmente importante sul tema degli eventuali fuoriusciti di virus e batteri dagli impianti biologici ucraini. Stiamo trattando questo tema da varie trasmissioni, da varie puntate. Invitiamo l'Ucraina a distruggere i patogeni pericolosi presenti nei laboratori di salute pubblica al fine di prevenire eventuali fuoriusciti. Questo era l'allarme lanciato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Allora, come stanno realmente le cose? Noi cerchiamo di avvicinarci alla verità avendo la possibilità di farlo con un vero esperto di minacce biologiche, un professore universitario, il professor Maurizio Martellini, docente di fisica presso la Università in Subria di Como. Tra poco dopo la sigla avremo la possibilità di intervistarlo. Eccoci dunque, ospitiamo il professor Maurizio Martellini che saluto cordialmente. Benvenuto in trasmissione. Grazie dottore. Dunque, il professore, perdoni il professore, la presento per bene, è docente di fisica presso l'Università in Subria di Como, è un esperto di minacce biologiche, ci aiuterà a capire quali realmente i pericoli esistano su queste eventuali fuoriuscite di virus dopo l'allarme dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ma posso permettere, professore, la prima domanda? Allora, abbiamo parlato di agenti patogeni, ma che cosa sono gli agenti patogeni? Ma, senta, sono virus principalmente. Io ho avuto, sono stato team leader di un progetto europeo che ha visitato diversi anni fa il laboratorio di Odessa, il laboratorio di agenti biologici di Odessa e che in qualche misura ne sono a conoscenza. Però vorrei chiarire agli ascoltatori che la situazione è un po', come direste voi giornalisti, una fake news, una notizia farsa. Questi laboratori, dovete sapere che questi laboratori durante l'Unione Sovietica erano chiamati in inglese Anti-Frag Institute, cioè laboratori contro la peste, perché era endemica in zone come l'Asia centrale, il Caucaso, eccetera. Questi laboratori, io ne ho visitati un paio, perché sono, ahimè, da tantissimi anni esperto di minacce chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari, anche se non sono molto pubblico, e nell'ambito di un progetto europeo ho visitato questi laboratori ad Odessa. Vi dico subito che ce l'ha anche l'Europa, lo abbiamo anche noi questi depositi di virus, ce l'abbiamo presso lo Spallanzani, sullo Spallanzani di Roma, perché questi sono essenziali per vedere come per evoluzione, noi diciamo, darwiniana, come un virus evolve e quindi per affrontare in tempo reale nuovi vaccini. Quindi non è una peculiarità dell'ex Unione Sovietica. Questi laboratori, nel linguaggio internazionale, vengono chiamati biosecurity labs e sono caratterizzati da dei livelli di pericolosità. Ecco, tra poco, tra poco, professore, arriviamo a parlarne. Però intanto, mi perdoni, le pongo una domanda chiave. Lei dice di essere certo che gli scienziati ucraini di Odessa, appunto, hanno già eliminato i patogeni contenuti in questi laboratori per ragioni di sicurezza. Ecco, come fa ad essere così sicuro? Per il semplice fatto che hanno chiesto aiuto nel 2005 agli Stati Uniti. Siamo nel 2005, quindi lontani da, diciamo, gli accidenti attuali. Sì, nel 2004 c'era la cosiddetta rivoluzione orange, arancione in Ucraina, perché fondamentalmente, io ho visitato questi laboratori, i loro frigoriferi, freezer, erano malmessi, c'erano interruzioni di corrente elettrica e quindi c'era il rischio di un qualche incidente biologico. Nel 2005 furono, non solo, sono sorpreso che l'OMS dimostra la sua continua, tanto io sono un professore, ignoranza, dovrebbe saperlo. Furono, come dire, è un ClickUpgraded a livello internazionale e per chi si diverte ad andare su Google, il laboratorio di Odessa fu upgraded, ha modernizzato ad un livello internazionale di SL3, cioè laboratorio di biocontenimento e sicurezza di livello 3, che tanto per intenderci raccoglie virus come quelli attivati al Covid-19. Ecco, professore Martellini, mi perdoni ancora se le interrompo, ma è per porle delle domande che le permettono di spiegare meglio le cose. Allora, senza girarci tanto attorno, tutti ricordiamo che le armi chimiche mai trovate in mano a Saddam Hussein furono usate come giustificazione per l'intervento militare americano. Allora, questo... Bravo, bravo. Dà un po' di sospetto su questa situazione, no? E allora io le chiedo, lei si diceva prima ma come fa l'OMS a lanciare queste allarmi? E li ha stigmatizzati di ignoranza da docente, quindi ignorano, no? Dando per favore, sì, per favore. Ecco, ma allora, insomma, cosa c'è secondo lei dietro questa situazione? Ci mancava soltanto questo a quella povera gente che sta soffrendo, morendo e tribolando. Ha ragione. Allora, a difesa dell'OMS, devo dire che tanti anni fa ci fu un dibattito interno molto serio se l'OMS doveva occuparsi di minacce tecnologiche. L'OMS è un'organizzazione civile estremamente importante e decisero che non era il caso. Quindi è anche capibile che questa ignoranza istituzionale sia dovuta al mandato dell'OMS. La sua domanda è, bravissimo dottore, è cruciale. Cerchiamo di essere diplomatico. Potrebbe essere un caso sbelli per motivare un attacco devastante d'altra parte il Washington Post da diversi giorni, se non settimane, sta dicendo che c'è il tentativo di trovare una causa per giustificare un'azione più massiccia. Ma quale sarebbe, secondo lei, professore, il rischio? Cioè, gli agenti patogeni e il livello di rischio, in quale rapporto sono? Bella domanda. Il rischio, guardi, questi agenti patogeni possono essere tranquillamente distrutti con la candeggina. Il rischio, se fuggissero, ma fuggissero dai loro freezer, dai loro contenitori, diciamo, come era il caso prima del 2005, il rischio è serio, perché un agente patogeno sia pure non di massima allerta come quelli di SL4 massimo, ovviamente determinerebbero un'epidemia, ma che dovrebbe anche colpire, glielo dico in franchezza, anche le forze di occupazione russe. Lei avrà visto nelle immagini passate questi militari con maschere e cose, cioè non se ne vede una e quando un agente è uscito non lo può più bloccare, quindi questo è il problema. Quindi questa è, per il mio modesto avviso, una fake news, cioè una falsa notizia. Quali sperimentazioni, secondo lei, professore, vengono condotte? Noi sappiamo che nei laboratori in giro per il mondo si conservano, si studiano virus più o meno pericolosi, ecco, con la giustificazione, scusa, non so come dirle, di condurre esperimenti per trovare delle cure, no? Beh, senza andare tanto lontano, anche a Wuhan si ha il sospetto che. Allora, non è il caso che seriamente si faccia un'opera di sorveglianza ed eventualmente chiedo a un esperto qual è lei. Come fare quest'opera di sorveglianza? Bellissima domanda. Poi, se vuoi parlare per noi, la invito. No, scusi la battuta. Il problema è che i meccanismi riguardanti la sanità pubblica non sono sovranazionali, dipendono dagli stati. Quindi c'è una procedura molto lunga per chiedere delle ispezioni nei laboratori che possono essere di alta preoccupazione. Questi virus sostanzialmente servono per vedere come con, glielo dico, è semplice alla fine, la Terra è soggetta a un bombardamento continuo di raggi cosmici e quindi ci potrebbero essere delle mutazioni indotte. E quindi tutti i paesi dell'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, hanno questi posti di allerta per vedere come il virus evolve. In fondo si è fatto anche per il Covid-19, come evolve e se i vaccini, purtroppo per molti virus non c'è un vaccino, questo lo devo dire, possono essere una preoccupazione internazionale. Lei sta dicendo una cosa sacrosanta, professore, lei sta dicendo che con la moltiplicazione nel mondo di questi laboratori che manipolano virus e appunto agenti patogeni, cresce la necessità non soltanto del maggiore controllo che io prima dicevo, ma lei dice di rafforzare la cooperazione internazionale in questo delicato settore. Ed è questo il problema, mi pare, no? In questa Europa. È questo il problema, perfettamente vero. Ecco, a difesa dell'Europa, io mi sento a tutti gli effetti un cittadino europeo al limite più che italiano, c'è già questa catena europea di laboratori di biosicurezza di alto contenimento, cioè i massimi BSL4, tanto per dirci quelli che potrebbero contenere virus tipo Ebola o altri, tanto per esserci, c'è già. Io conoscevo il direttore generale di questa organizzazione che è francese, perché i francesi sono molto avanti in questa situazione. Però si racconta, professore, ed è l'ultima mia domanda, non voglio provocarla, però si racconta che pur rimanendo la biosicurezza una priorità di sicurezza assoluta ancora oggi è troppo sottostimata ed è soprattutto sottofinanziata in gran parte dei paesi avanzati. È così? È vero, è vero. Ma anche perché io in realtà sono un fisico nucleare prestato da anni al problema delle armi di distruzione di massa. Per la verità le emergenze sarebbero tante. La vera verità è che bisognerebbe, l'Europa dovrebbe rafforzare la sua catena di prevenzione per minacce chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari, ma che per ragioni di sicurezza nazionale appartengono ai paesi membri. Gli Stati Uniti d'America, che io conosco profondamente, ma io ho visitato tante volte Mosca, hanno già questi organi federali. L'Europa sta crescendo adesso. Senta professore, ho l'impressione che avremo possibilità, occasione di risentirci ancora, ahimè prossimamente, ma mi credo è stato un piacere conversare con lei. È un onore per me, lei è molto informato. La ringrazio molto, la ringrazio e le auguro buon lavoro. Buon lavoro davvero. Anche a lei, dottore. Arrivederci. E ringrazio tutti coloro che, come sempre, si sono messi all'ascolto, alla visione della nostra pubblicazione, e l'hanno scelta appuntamento immancabilmente, dunque per domani. Grazie a tutti.